Una bella storia di coraggio, di amore verso la nostra terra, la nostra Taranto, quella di Vincenzo Basile che sarà candidato al Consiglio Comunale di Taranto nella nostra lista Taranto senza Ilva. Vincenzo Basile, ex dipendente Ilva per oltre 20 anni, spezza le catene dell'acciaio, decide di lasciare questo stato di schiavitù in cui ci ha ridotto e ci riduce tuttora l'ex Ilva e decide di puntare sulla mitilicoltura, sulla vocazuna delle vocazioni naturali di Taranto. Vincenzo ha deciso di dare questa forte testimonianza accettando la mia proposta di candidatura. Allora Vincenzo intanto raccontiamo la tua storia. Io sono un ex operaio Ilva, stando su AFO 5, AFO 4, AFO 2, AFO 1, che ho fatto tante manutenzione, ero un ex colatore, un mio amico è morto, bruciato, purtroppo l'ha lasciato moglie e figli, questo si chiama Alessandro Moricelli. Lo ricordiamo con affetto. Non lo dimentico perché è una persona molto educata. Io ho avuto un problema anche sull'impianti in quanto mi hanno trovato di fissima polmonare e io non fumo. Purtroppo l'ho preso lì, dicendo il dottore, ma tu fumi troppo? Disse il dottore, quante sigarette al giorno fumi? No, la verità non fumo proprio dottore, io lavoro sull'alto foie e là è il problema. Ho fatto delle visite all'INAIL e l'INAIL dice che non c'è niente, però sono andato a fare quella di San Giorgio e lì a San Giorgio risolta fissima polmonare. Quanti anni buttati, perché si tratta di anni buttati della propria vita, perché la vita non torna indietro? Gli anni della vita non tornano indietro. I soldi non sono niente i soldi. Sono vent'anni che io ho fatto nell'ILVA, in quei reparti proprio mortali, era un inferno là dentro, polvere, quanto più ne mette, amianto, c'è un casino, c'era Luigi là. E allora Vincenzo Basile, usufruendo della possibilità dell'incentivo per lasciare quella fabbrica che uccide e che con la nostra amministrazione non ucciderà più, dicevo, prende questo incentivo e investe nel settore della mitilicoltura. Io poi ho deciso di mettermi in mitilicoltura perché vengo già dal mio passato, che mio padre non voleva tempo fa che io lasciassi il mare e decisi di andare nell'ILVA e ho ripreso di nuovo l'attività mettendomi tutte a regola. Ho fatto concessione, cooperative e quant'altro e sto andando avanti. Il mare è questo. Vivi secondo natura. Vivo con la natura del mare, dell'aria. Adesso oggi è migliore. Oggi abbiamo, ma vedete, ogni nostra parola, come dire, potrebbe non avere senso dinanzi a un panorama meraviglioso, fantastico e questa è la risposta a coloro i quali dicono, è la tua esperienza, è la prova provata, ma se chiude l'ILVA come facciamo? Già che ora l'ILVA dà quattro soldi è verso la chiusura, è verso la morte, ma scusate, le altre città che non hanno il siderurgico come vivono? Vivono di mare, vivono di turismo? Turismo, turismo è altro che dal mare, turismo, teatri, cultura, tutto. L'ILVA a noi ci ha ammazzato e ammazza ancora di più. L'altro giorno faceva vento, io ho visto di qua una nube che si è alzata verso tutti i tamburi della città, una nuova nera, era polverino questo perché lo conosco e quello non è polvere normale, quello è ferro. Immaginate cosa succede quando entra nei nostri polmoni? Che va nei polmoni. Allora questo ferro qua, che lì dentro c'è anche amianto e quant'altro, le persone qui a Taranto la respirano, i bambini sono su occupo di quest'area qui. Vincenzo, la tua decisione di candidarti al Consiglio Comunale, una decisione forte che a me, che mi ha riempito di gioia e di orgoglio per dare la svolta a Taranto. Il tuo esempio è emblematico di una inversione a U che dobbiamo dare. Allora io ho deciso di mettermi come Consiglio Comunale contro questa situazione dell'ILVA, contro questo inquinamento, in quanto io l'ho vissuto e lo vedo tuttora, per capito, in Via Verdi, questi palazzini, questi palazzini sono diventati marroni e queste persone che ci abitano fanno i palazzi marroni. Oltre al fatto che le case si svalutano, valgono quattro soldi. Sottovalutazione, perché colpa questa azienda qui. Purtroppo o si mette a regola, si mette a posto, che è difficile perché… È impossibile. È impossibile adesso abbandonizzarli, questa azienda, perché ci vogliono molti, molti miliardi. Ma poi oltretutto è proprio strutturalmente un siderurgico, ha una vita di 40 anni. Qui arriva… no, dico in genere, può durare massimo 40 anni. Siamo a 60 anni e a fine corsa. Siamo qua alla fine, qui sta cadendo tutto a pezzo, questa ilva qui e non abbiamo via di uscita con questa azienda. E quando noi diciamo chiusura, senza se e senza ma, lo diciamo innanzitutto perché è impossibile, come poc'anzi evidenziato, ambientalizzarla. Ma poi con lo smantellamento e la bonifica ci sarebbe lavoro per almeno 30 anni per quelli che oggi lavorano, considerando che la metà dei dipendenti diretti sta in cassa integrazione. Allora nessun operaio perderebbe il lavoro, né operaio diretto né dell'indotto. Questo vogliamo far capire. Noi vogliamo tutelare innanzitutto gli operai che sono i primi che rischiano la vita all'interno di quello stabilimento. Se lo stabilimento esplode, i primi che se ne vanno all'alto mondo, siete proprio voi signori operai? Per 1200 euro, 1300 euro. Magari, ci sono quelli in cassa integrazione che ne prendono 700. Non vale la pena. Mi dispiace per i miei ex colleghi che sono nell'Ilva, ma purtroppo vi devo dire che la realtà è questa. Vi state ammalando tutti là dentro e voi non me ne stiamo accorgendo. Bene, intanto affrontiamo insieme a Vincenzo questa campagna elettorale che sarà certamente dura, impegnativa, ma siamo convinti, scusate la presunzione, di vincere perché penso che la misura sia colma, perché Taranto vuole vivere, perché Taranto si sta rendendo conto che questo siderurgico è solo uno strumento di morte e di miseria. c'è un altro mondo, c'è il mondo della natura, c'è il mare, ci sono le risorse del mare, c'è la cultura, ci sono le nostre tradizioni, c'è tutto, abbiamo tutto. Scusate, ma giusto per concludere, Marimini, Riccione, che hanno un mare con tutto il rispetto di gran lunga inferiore al nostro, come vivono? Nessuno pone la domanda lì e come fate a vivere se non c'è il siderurgico, vivono e vivono bene. Qui a Taranto si muore, non si vive. Taranto senza il va, senza se e senza ma. Grazie Vincenzo e combattiamo per una battaglia di vita innanzitutto. Grazie Luigi per come mi hai fatto questa intervista e io spero che Taranto ci liberiamo da questo mostro che ha inguinato tutto, ha inguinato tutta Taranto. Ci so anche la speranza.